salve siamo all'interno dello showroom di maiulari vi presentiamo questo piatto un pacchero del pastificio orura pastificio che utilizza solo grani di puglia e basilicata pacchero trafilato al bronzo che siamo andati già a calare nella nostra pentola gli ingredienti per questa ricetta sono delle melanzane dell'olio aromatizzato con l'aglio dei pomodorini datterino arancioni degli scampi dei fiori di zucca e delle mandorle di toritto qui siamo andati a cucinarci delle melanzane a frullarle e abbiamo creato una crema di melanzane alla quale poi gli ho dato un tocco di affumicato per prendere ancora più particolare questo piatto iniziamo con il procedimento un goccino di olio nella una padella antiaderente andiamo a mettere all'interno dei pomodorini datterino già tagliati dei pezzetti di scampi già tagliati col quale andiamo a crearci una salsa di base ingredienti stanno rosolando quindi abbiamo messo un pochino di olio all'aglio pomodorino dattero arancione scampi a pezzettini andiamo ad aggiungere un goccetto di brodo di pesce nel frattempo andiamo a controllarci la cottura della pasta che è quasi pronta la scoliamo la passiamo in padella andiamo a mantecare aggiungiamo dei fiori di zucca del prezzemolo i paccheri sono pronti a prendere il nostro piatto da portata una leggera passata di mandorle di toritto intorno la nostra crema di melanzane sulla base andiamo ad adagiare i nostri paccheri sulla crema di melanzane andiamo a mettere i nostri fiori di zucca sopra guarnizione fiori che abbiamo fritto leggermente il nostro pizzino di pepe sempre un goccio di olio extravergine e il nostro piatto è pronto questo primo piatto paccheri con scampi e crema di melanzane abbiniamo un bianco dell'etna attia di etnella da vitigno chasse la un vino caratterizzato da una grande sapidità che incontra agevolmente il sapore mediterraneo di questo piatto